Ragazze ma guardate che cielo azzurro, che meraviglia, le discoteche ambulanti passano sempre. Ragazze sono le 12 e qualcosa, io sto andando in palestra, si ricomincia, anche se per il momento mi sembra tutto molto, diciamo questo inizio sarà vanificato, tutto vanificato perché ancora ho cibo a casa che ho fatto e diciamo che si deve smaltire, oggi ad esempio farò a pranzo la pasta con le lenticchie perché ho fatto le lenticchie per Capodanno ma le abbiamo appena assaggiate quindi oggi almeno faccio una minestra e poi che ho vabbè a casa in realtà non ho granché, ho un po' di biscotti che ho fatto ieri, ho un pezzetto di pandoro e poi ho il tronchetto quello salato fatto con i tramezzini e l'insalata russa, diciamo che non ho tutte queste cose pensandoci bene, poi ho tanto salmone in busta, salmone affumicato, pesce spada affumicato che mio marito aveva comprato e che poi non abbiamo utilizzato, insomma ne abbiamo utilizzato una piccola parte. Poi naturalmente c'è l'ultima festa che è l'Epifania dove naturalmente si farà qualche altra mangiata, a quel punto davvero è l'ultima e così spero di non vanificare il lavoro fatto in palestra. Comunque con mia grande sorpresa ho ricevuto dei complimenti da qualcuna che mi ha detto ah ti ho trovata bene, ma che bella silhouette, ma sei dimagrita, ma dove? Forse è un'illusione ottica o magari qualche volta l'outfit di quel momento mi aiuta, e difatti io mi metto a ridere perché io so che invece da quando ho staccato la palestra poi qualche chilo quest'estate l'ho preso in realtà, e quindi diciamo mi fa ridere questa cosa, però evidentemente, meno male, evidentemente inganno un pochino. Vabbè ragazze io chiudo perché vedete che vedete che camminando e parlando mi viene il fiatone, sto arrivando. Dice qua tutto terreno minato. Ragazze io lo so che voi non mi credete, non ci crederete, c'è Maia che aspetta che io mi metto a letto, perché naturalmente conosce le mie abitudini, ho rigovernato e pulito la cucina, poi io vengo in camera da letto, e sì amore, e lei si mette accanto a me, e sta, si fa un bel pisolino, sta un sacco di tempo, siccome ancora non mi vede che mi metto a letto, giustamente aspetta, amore aspetta, devo parlare un poco con le ragazze, adesso, adesso vengo. Allora ragazze, anno nuovo, asse da stiro vecchio, e che cambia con l'anno nuovo? Non cambia niente, sempre le stesse cose da fare, io direi per fortuna ragazze, per fortuna sempre le stesse cose da fare, io, come dire, ci metto la firma, quando tutto scorre nella normalità, io appunto sono contenta e felice. Ragazze, vi faccio vedere la meraviglia, io lo capisco, ve lo faccio vedere ogni giorno, ma è talmente bello che voglio condividere questa bellezza anche con voi, meraviglioso. Allora, quindi io più tardi dovrei, se Dio vuole, stirarmi queste quattro cose, però vi volevo parlare oggi, prima di chiudere appunto questo solito vlog, di un illuminante. Vediamo se lo trovo, dove l'avrò messo, vediamo. Allora, questo è il primer nuovo, eccolo qua, l'ho trovato ragazze. Allora, intanto vi volevo fare vedere questo cerchietto che per il 31 abbiamo indossato tutti a casa di mia figlia, maschi e femmine, compresi, quindi anche i maschi. Mio marito addirittura se l'è tenuto proprio tutta la serata, perché poi noi arrivato a un certo punto l'abbiamo tolto. Mio marito si ci stava coricando, lui tranquillamente tutto quello che si ci mette in testa, lui tranquillamente se lo tiene, come dire, così, con molta soddisfazione. Allora, che cosa vi volevo dire? Vi volevo parlare di questo illuminante che mi è stato regalato per Capodanno. Allora, dunque, Revolution Glow, quindi credo che il marchio sia Makeup Revolution, Skin Gloss, Face e Body Gloss. Ice, Ice, Ice credo che stia per il fatto che è un illuminante, diciamo, non dorato, ma bensì ghiaccio, quindi forse sull'argento. Allora, io adesso ne spruzzo un poco, scusate perché vedete c'è il dispenser, ne spruzzo un poco. Ecco, ecco, fatto. Intanto devo dire che la confezione, il pack mi piace molto, così, dorato, vedete? Devo dire che è molto bello. Mettiamo il tappino. Ok, lo mettiamo così, capovolto. Allora, ora vi faccio vedere. Ecco, l'ho, come dire, l'ho spruzzato un attimo sulla mano. Adesso io lo spalmo, così ne parliamo, perché è bello, però ci sono anche, diciamo, delle cose che non mi convincono e che non vanno bene. Allora, ecco qua. Ragazze, questo è l'illuminante, praticamente spalmato. Vedete? Non è male, è bello. Diciamo, l'effetto è molto bello. E vi devo dire che è anche molto ricco, cioè sembra nutriente. Ecco, io l'altra sera, quando me lo hanno regalato, sbagliando, dissi alla persona che me lo aveva regalato, dissi è idratante. No, è nutriente, perché è molto grasso, cremoso, proprio come quando mettete una crema nutriente. Ora, che cosa c'è che non va in questo illuminante? Come vedete, qui c'è scritto body and face, quindi si può mettere sul viso, si può mettere anche nel corpo. Quindi parliamo di viso, collo, decolletele, braccia e tutto quanto. Allora, devo dire che sul viso non mi convince molto. Perché non mi convince molto? Perché essendo così molto cremoso, si deve andare a spargere e a, come dire, con le mani si deve molto massaggiare la parte dove che si vuole mettere, per distribuirlo bene e appunto per farlo vedere bene. Ora, che cosa succede? Che quando voi lo applicate sulle guance e dovete passare molto la mano per spalmarlo, che cosa succede? Io l'ho utilizzato, mi pare, adesso non ricordo se è il 31 o no, il 31 no, forse il 30 che mi sono truccato e l'ho provato. Che cosa succede? Che praticamente massaggiando così sullo zigomo dove si mette l'illuminante succede che massaggiando così si porta il fondotinta che avete applicato sotto, si porta il blush, insomma, tutto quello che voi avete messo sotto lo annulla perché dovete strofinare, massaggiare, come se stesse mettendo una crema e quindi si deve assorbire. Quindi che cosa succede? Che tutti i prodotti che avete messo sotto se ne vanno. Quindi io questo non lo trovo brutto, lo trovo bello anche, guardate, l'effetto è molto bello, però io credo che questo lo utilizzerò soprattutto in estate, guardate che bello, in estate sul décolleté, sulle spalle abbronzate, ecco, in un punto dove voi potete mettere una cosa e massaggiarla nelle braccia abbronzate, anche perché, vi ripeto, dà questa sensazione di nutrizione, proprio è molto cremoso, io ancora lo sto massaggiando, è molto cremoso ed è, guardate che bello, ed è cremoso e luminoso, però capite bene che se lo andate a mettere sullo zigomo e dovete strofinare, e succede che praticamente si porta tutto quello che c'era sotto. Bene, credo di essere stata esaustiva, ve lo faccio rivedere, Revolution Glow, Skin Gloss, quindi un lucido per la pelle, Face e Body Gloss, io toglierei il Face e lascerei il Body, perché, vi ripeto, per la faccia non lo trovo adatto. Comunque, ragazze, bene, dopo aver fatto questa recensione, questo è uno di quelle cose che mi hanno regalato per Natale, anzi, vi devo fare vedere le altre due, tre cosine che ho ricevuto, vi farò poi appunto un video a parte. E niente, ragazze, quindi a questo punto io mi vado a coricare, anche perché c'è la piccola Maia che mi aspetta, non mi sembra giusto farla aspettare. Vi saluto, noi ci vediamo come sempre domani mattina e mi raccomando, forza, sta partendo un nuovo anno, quindi mi raccomando, baci!